Bando per il completamento della bonifica dell'area ex Ticosa di Como. Dopo rallentamenti, intoppi, una gara annullata e un'altra sospesa. Il nuovo documento è stato pubblicato nei giorni scorsi da Palazzo Cernezzi. Domani è fissata la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la gara di affidamento dei lavori per la bonifica dell'ultima porzione di terreno. Si tratta dell'ora mai celebre Cella 3 e l'area che si trova dietro all'edificio della Santarella. Il valore complessivo dell'appalto è di oltre 4 milioni e 300 mila euro. Il nuovo avviso di manifestazioni di interesse è attivo attraverso procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori economici. La gara dunque dovrà essere assegnata e finalmente, si spera, le ruspe entreranno in azione nell'area dell'ex Ticosa di Como per bonificare anche l'ultima porzione di terreno che manca.